Per aver perso ogni speranza di avere i soldi, i rispermatori traditi dalle banche venete si sono ritrovati al palamostro di Udine chiamati a raccolta da Feder Consumatori. L'associazione chiede l'attivazione del fondo di rietarcimento. Continua la passerella dei big della politica nazionale in Friuli Venezia Giulia in vista delle elezioni del 29 aprile. Gli schieramenti si scontrano a distanza. Oggi è stata la volta di Martina, Salvini e Lupi. Domani arriverà in regione Berlusconi. Dopo la razza di pecore e nemonzo, qualche giorno fa l'orso Francesco è stato catturato e dotato di un nuovo collare per monitorarne spostamenti e dieta dopo le ultime azioni predatorie. Attualmente sono tre gli orsi monitorati. Oltre 50 esperti locali e nazionali parteciperanno al primo festival in Italia dedicato alle fake news. L'evento si svolgerà a Udine dal 3 al 6 maggio organizzato dai giovani giuristi dell'associazione Elsa. L'evento è stato presentato oggi. Dopo 24 ore si attende ancora di conoscere il nome del tecnico che guiderà l'udinese nelle ultime quattro gare della stagione. Oddo oggi ancora a Udine sembra destinato all'esonero. Buonasera, ben trovati con l'informazione su Telefriuli. I risparmiatori colpiti dal crack delle banche venete sono delusi, amareggiati e dichiarano di non avere più alcuna speranza di poter realizzare il loro sogno dopo aver risparmiato tutta la vita pensando non solo al proprio futuro ma soprattutto a quello dei figli. A Udine Feder Consumatori ha dato informazioni e assistenza a ben 2700 persone, 1100 delle quali hanno presentato istanze di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa attraverso l'associazione. Ci sono ancora secondo lei possibilità di recuperare qualcosa? L'unica possibilità è adeguare una massa critica e promuovere un'azione politica. E lei ci può dire quanti soldi? Parecchi, tanti che non ho neanche un'idea. E quindi lei con quei soldi che cosa pensava di fare? Di assicurarsi la vecchiaia? La vecchiaia è un domani per i figli, per i nipoti, di dare un avvenire. Il risparmio di una vita e non è che si speculava che se si investiva in bot o in titolo di stato si prendeva più soldi di quello che dava la banca. Io non è che abbia investito grandi cose, però per me sono grandi cose. Adesso che ho bisogno non ne ho. Sono stata presa in giro da persone che all'interno della banca io ho dato fiducia. In questo caso qui dovrebbero essere le certezze piuttosto che le speranze, un attimino, a dare conforto a tutti quelli che sono stati fregati. Non voglio speranze, voglio certezze. Federconsumatori sollecita il governo perché rende operativo il fondo di risarcimento varato dalla finanziaria 2017, di cui si attende ancora l'emanazione del regolamento attuativo. Si rincorrono troppi messaggi contraddittori sulle prospettive di risarcimento dei risparmiatori colpiti dal crack delle banche venete e le speranze sono rinviate a un futuro indefinito e appaiono legate a processi incontrollabili. Per questo Federconsumatori intende fare chiarezza in previsione di grande affluenza di pubblico. Le nostre proposte sono che il fondo che è stato introdotto con un emendamento alla finanziaria sia anzitutto notevolmente incrementato riguardo agli importi disponibili. Perché l'attuale dotazione di 100 milioni di euro suddivisa in quattro anni è largamente insufficiente rispetto alla massa di coloro che possono presentare domanda di risarcimento. Le azioni che sono ancora possibili sono da parte nostra ovviamente di sollecitazione nei confronti del nuovo governo e da parte del Parlamento naturalmente l'attivazione di tutte le possibili nuove fonte di finanziamento. Siamo alla cronaca tragedia nel primo pomeriggio a Bibione. Un operaio che stava lavorando nel cantiere dell'hotel Palace in Via del Leone è caduto da un'impalcatura. Si tratta di Loris Biasio, operaio di 59 anni di San Michele a Tagliamento che è precipitato da un'altezza di 3 metri. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 allertati dai colleghi. Sul posto anche le forze dell'ordine che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente. Si è risvegliata e da lenti segnali di miglioramento la giovane donna investita sabato sera ad Aviano da un concittadino trovato positivo all'alcol test. Secondo quanto si è appreso la ragazza 22enne del posto che era in sella alla propria bicicletta ed è stata sbalzata sull'asfalto per una decina di metri sarebbe fuori pericolo sebbene ancora ricoverata in terapia intensiva a Udine. Il suo investitore di 24 anni che si trovava alla guida dell'auto era stato arrestato non appena emerso il risultato del tasso di alcol nel sangue. Al termine dell'interrogatorio, alla presenza del legale e del giovane, la procura di Pordenone aveva già disposto la liberazione. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. E' stato identificato l'uomo che giovedì sera a Paolaro ha minacciato con una pistola senza apparente motivo un 19enne. Si tratta di un 56enne del posto individuato dai carabinieri del norme che hanno trovato anche l'arma. Si tratta di una riproduzione a salve di libero acquisto. L'uomo è stato denunciato per l'ipotesi di reato di porto abusivo di arma e minaccia aggravata. Questa mattina intorno alle 10.30 il soccorso alpino di Maniago è stato attivato per una richiesta di intervento sul monte San Lorenzo all'inizio della Val Colvera in comune di Maniago. Un uomo di 50 anni ha accusato un malore mentre lavorava con un collega sul monte a una quota di circa 800 metri alla manutenzione di un'antenna. Il collega lo ha visto accasciarsi sul terreno e ha subito alertato il 112. Sul posto raggiungibile soltanto a piedi è intervenuto l'elicottero della centrale operativa di Udine, mentre quattro tecnici del soccorso alpino di Maniago si sono attivati a supporto dell'equipa medica. L'elicottero è riuscito ad atterrare senza problemi in prossimità dell'antenna e i sanitari hanno fornito al 50enne i primi soccorsi. Quando era ancora cosciente l'uomo è stato stabilizzato sul posto, trasportato per 100 metri in barella e imbarcato sul velivolo per essere condotto d'urgenza all'ospedale di Udine. Sono 304 le persone identificate nel corso di un'attività programmata di controllo dalla questura di Udine dal 18 al 20 aprile. Nel corso dei pattugliamenti sono stati controllati anche 104 veicoli e 6 esercizi commerciali e sequestrati 9 grammi di ascis. Le operazioni si sono concentrate lungo le vie e piazze cittadine con particolare attenzione ai cittadini stranieri irregolari che stazionano nei terminal ferroviari e del trasporto pubblico e nelle zone di maggior degrado. Ed ora siamo alla politica, continua la passerella dei big della politica nazionale nella nostra regione in vista appunto dell'elezione di domenica 29 aprile. Gli schieramenti si scontrano a distanza, oggi è stata la volta di Martina, Salvini e Lupi, domani arriverà in regione Berlusconi. E da 50 giorni che ci dicono facciamo tutto subito, facciamo tutto nuovo, facciamo tutto presto, sarà di cambiamento. 50 giorni da Prima Repubblica, magari avessimo la qualità da Prima Repubblica. Lo ha detto il segretario nazionale, reggente del PD, Maurizio Martina, durante un incontro elettorale a Trieste, a sostegno del candidato presidente di centro-sinistra alle regionali del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. Raccontano una storia che non c'è, aggiunto, se la cantano e se la suonano tra di loro e continuerà così. Martina si è anche soffermato sul peso che le regionali avranno per il futuro governo. C'è bisogno che domenica il Friuli Venezia Giulia scelga e voti per il Friuli Venezia Giulia, non per altro. Scelga e voti per il suo destino e per la sua prospettiva. Trovo vergognoso che alcuni leader del centro-destra e non solo, ha continuato il segretario reggente del PD, siano venuti qui più pensando a Palazzo Chigi che non al destino di questa comunità. Da noi, aggiunto, non sentirete una parola fuori posto rispetto al bisogno che la vostra comunità e i cittadini di questa regione, di qui a domenica, riflettano sulle ragioni fondamentali di una scelta per il destino del Friuli Venezia Giulia, in ragione di scelte, bisogni, aspettative, necessità che voi vivete tutti i giorni nelle vostre comunità. C'è una mancanza di rispetto profonda verso questa terra se uno viene qui e pensa più agli equilibri romani e non invece ai bisogni di questa realtà. Martina ha poi sottolineato che questo è uno dei messaggi più negativi e che segna anche la distanza tra noi e gli altri. Noi usiamo, ha concluso, le regionali per regolare i conti di questo rapporto nella dinamica del Palazzo Romano. Era presente in regione anche il coordinatore nazionale di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, per partecipare all'incontro a Udine più mondo sociale e meno globo tecnocratico. Organizzato dall'associazione promozionale sociale Costruiamo il futuro, Lupi si è soffermato sul risultato delle elezioni regionali molise e sulle conseguenze che insieme al voto friulano avrà sulle politiche nazionali. Onorevole Lupi, che riflessi può avere il voto in Molise e poi quello in Friuli Venezia Giulia sulla politica nazionale? Ma è la conferma che il centrodestra alle elezioni politiche è risultato alla proposta politica di maggioranza nel Paese. A distanza di solo un mese il Molise ha appena dimostrato che il centrodestra con la sua coalizione è unito nella coalizione con la proposta moderata come la nostra. In Molise le proposte di centro hanno ottenuto un risultato molto importante con Forza Italia, con la Lega e con Fratelli d'Italia, vince le elezioni regionali e conferma la vittoria alle elezioni politiche. È il segnale che il governo del Paese per andare poi a cercare i voti in Parlamento dovrebbe essere dato alla coalizione di centrodestra. C'è il rischio di una separazione in casa? No, il centrodestra unito vince e governa, perché in tutte le regioni dove il centrodestra ha vinto si governa e si governa bene. Penso alla Liguria, penso alla Lombardia, penso al Veneto. Quello che è inaccettabile è che qualcuno ponga vetti non avendo la maggioranza assoluta nei confronti del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle si presenta da solo e prende i suoi voti. È la coalizione di centrodestra con la sua diversità di proposte che ottiene la maggioranza relativa nel Paese e vince le elezioni regionali. Quindi la sfida del governo appartiene al centrodestra, nella coscienza che bisogna trovare i voti non avendo la maggioranza assoluta in Parlamento con altri e dialogare sul programma con altri. Presente oggi in regione è anche il leader della Lega, Salvini, che si è rivolto a Berlusconi e Di Maio. Non c'è tempo da perdere, ha detto, la smettano di litigare, occorre sedersi al tavolo e cominciare a lavorare. È proprio Silvio Berlusconi, domani arriverà in Friuli Venezia Giulia. Il leader di Forza Italia resterà in regione quattro giorni per un tour elettorale. Nel pomeriggio sarà in piazza 20 Settembre a Pordenone dove sarà allestito un gazebo. Mercoledì farà tappa a Sacile e Spilimbergo, mentre giovedì e venerdì sarà a Udine e Trieste. Monfalcone si divide sulle celebrazioni del 25 aprile. L'amministrazione comunale non invita i partigiani di Nova Gorizza e l'opposizione insorge. Il sindaco dimentica i valori dell'antifascismo. Monfalcone non trova ancora pace per la ricorrenza del 25 aprile. Il mancato invito da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dell'Associazione dei Partigiani Sloveni di Nova Gorizza non è passata inosservata. Per l'opposizione il comportamento della Giunta è arrogante. In particolare condanniamo la scelta di non invitare le associazioni dei partigiani sloveni alla cerimonia del 25 aprile, che risulta come un atto unilaterale di totale negazione di quella che è stata la storia delle nostre terre. Sembra quasi paradossale che chi si rifà costantemente al concetto di mantenere vive le nostre tradizioni decida di cancellare con un colpo di spugna anni di storie di rapporti consolidati. Tuona Cristiana Morsolin, capogruppo della sinistra per Monfalcone. La scelta dell'amministrazione è un atto deliberatamente provocatorio, secondo la minoranza, che ancora una volta cerca di dividere la città e che cerca di imporre con arroganza una visione distorta della storia. Non c'è nuova la posizione di questa amministrazione su questo tema, non abbiamo dimenticato l'assenza del Comune e le celebrazioni di Saciletto lo scorso anno, come anche il fatto che quest'anno pur essendo presente un rappresentante dell'amministrazione non sia stato mandato il gonfalone del Comune o il grande vuoto per le celebrazioni del Giorno della Memoria, prosegue Morsolin. Vorremmo ricordare alla sindaca che l'antifascismo è un valore riconosciuto dalla Carta Costituzionale, conclude Morsolin, e che va celebrato assieme a tutti coloro che hanno contribuito a liberare l'Italia dal nazifascismo, anche i partigiani sloveni. Con partigianato, imprese Udine e Trieste puntano ad unificare i servizi. Il progetto è stato presentato oggi nel capoluogo friulano. Ce ne parlano i due presidenti, Tilatti e Bruni. Si tratta di una collaborazione e una fusione dei servizi tra la provincia di Trieste e la provincia di Udine. Prima lavoravamo ognuno all'interno della propria provincia. In un ragionamento all'interno di Confartigianato FWG è già iniziata un'interlocuzione con tutte le quattro province. Le due province, Trieste e Udine, hanno scommesso sul futuro prima degli altri e abbiamo fuso le nostre società di servizi con una società regionale. Conterà 200 dipendenti, 4.000 le aziende che verranno assistite di questa società di servizi. È una sfida molto importante ma con un sguardo a ciò che serve veramente all'impresa, soprattutto in futuro. Io e il presidente Dario Bruni abbiamo avuto questa autorizzazione a rinnessere questo primo esperimento, non solo dalle nostre territoriali, ma abbiamo avuto anche il consenso delle altre territoriali, Gorizia e Pordenone, che col tempo noi pensiamo che si aggregheranno. Questa oggi è una grande giornata. Questo è un punto di partenza perché Confartigianato del Friuli Venezia Giulia racconta 70 anni di storia, da oggi riparte per un ulteriore 70 anni di storia. Poi fra 70 anni vedremo cosa potremo fare. E allora ci spostiamo a Pordenone. La zona della chiesa del Beato Dorico sarà sistemata da Comune e Gea e destinata in modo particolare a bambini e famiglie. Tutti i lavori partiranno quest'estate. È andato dal Comune di Pordenone il piano per riqualificare l'area della chiesa del Beato Dorico. Diversi gli interventi in partenza in estate. La sistemazione del parcheggio tra la Canonica e la Scuola Materna, una pista ciclabile che attraverserà anche via Beata Domicilla, l'abbellimento e l'ampliamento delle zone verdi attorno all'edificio religioso che ospiteranno anche piccoli eventi culturali. Presente all'incontro con i residenti del quartiere, il sindaco Alessandro Ciliani. Integriamo il progetto europeo che consentirà l'organizzazione della pista ciclabile e integriamo già lavori fatti, penso all'asfaltatura di Via Libertà, alla sistemazione di illuminazione, alla progettazione della rotonda di Via Vallona, con la sistemazione di quest'area verde. Significa ridare la disponibilità, la fruibilità di un polmone verde bellissimo in cui passa il fiume agli abitanti di questo quartiere e a quanti frequentano anche la parrocchia, quindi ai bambini e alle famiglie. I dettagli degli interventi, pianificati assieme a Gea e alla parrocchia, sono stati illustrati dall'assessore alla viabilità Cristina Amirante. Andiamo a rifare la parte relativa al parcheggio e al verde pubblico intorno alla chiesa, in modo tale da valorizzare l'oggetto architettonico che è meraviglioso e anche a valorizzare quelle che sono le aree intorno e renderle più fruibili. Quindi andiamo a creare un giardino, rimettiamo a posto un parcheggio che adesso è abbastanza malmesso anche per l'apparato radicale degli alberi e mettiamo a posto anche la roggia, in modo da creare uno scenario sicuramente più decoroso e più bello. L'opera si completa anche con la pista ciclabile del Pisus A6, che adesso è in fase di realizzazione, quindi che collega il lago di San Valentino, quello di San Carlo al parco del seminario. E contemporaneamente quest'estate faremo anche la riqualificazione dell'intersezione tra Viale Libertà e Via Vallona con una rotatoria che si possa chiamare tale, cosa che adesso non è. E torniamo alla politica, prosegue in queste ore la visita del leader della Lega Salvini a Codroipo e Cividale. Torno in Friuli e ci tornerò da Presidente del Consiglio. Il saluto che il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha rivolto alla folla con l'accolto nelle tappe della sua visita in Regione, la prima delle quali a Muffalconi ieri sera a Trieste questa mattina. In Piazza della Borsa ha commentato il risultato elettorale del Molise, dove la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 43% dei voti contro il 38,5% del Movimento 5 Stelle e il 17,10% del centrosinistra. A Roma, centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il governo siamo i primi arrivati. Ha detto ancora il leader del Carroccio, che si è trasferito successivamente a Tolmezzo, Gemone Paolaro, dove ha parlato di denalità. Un paese che fa sempre meno figli, un paese che si spegne e vorremmo ripartire dalle culle, dagli asili, dalle scuole, ha affermato ancora il leader del Carroccio, che rivolgendosi ai rappresentanti delle altre forze politiche, ribadisce la volontà di riforme delle pensioni, del lavoro, la riduzione delle tasse, il blocco degli aumenti dell'IVA e delle accise e il blocco e controllo dei confini. Voltiamo pagina, parliamo dell'Orso Francesco, dopo la razzia di pecore a pane di Enemonzo di qualche giorno fa, è stato catturato e dotato di un nuovo collare in servizio. L'Orso Francesco è stato nuovamente catturato dai ricercatori dell'Università di Udine, che da anni monitorano i movimenti dei plantigradi residenti nella nostra regione. Nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 aprile, a Francesco è stato applicato un nuovo collare, visto che quello che indossava era programmato per sganciarsi automaticamente entro maggio. L'Orso Biondo, che ha 10 anni, era stato catturato e dotato di collare per la prima volta nel maggio di due anni fa, allora proveniente dal Trentino. Nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 aprile, era riuscito a scavalcare il recinto di un allevamento di ovini nel borgo di Pani, a Enemonzo, cibandosi di ben quattro pecore. La cattura è avvenuta proprio nei pressi di questa stessa azienda, grazie al contributo dei proprietari che hanno permesso all'equipe guidata dall'Università di Udine di sistemare la gabbia sui loro terreni. L'operazione, spiega Stefano Filacorda, coordinatore dei progetti sulla fauna selvatica dell'Università di Udine, è ancora più importante in questo momento, perché grazie al nuovo collare sarà possibile seguire Francesco, che sebbene da diversi anni avesse ormai assunto un regime alimentare vegetariano, ha tornato invece a manifestare comportamenti predatori. Francesco, una volta rimesso in libertà, si è spostato nella destra tagliamento verso il Monte Valcalda. Il nuovo collare permetterà di seguire i movimenti dell'Orso fino all'agosto del 2019. Nasce a Udine il primo festival in Italia interamente dedicato alle fake news. Oltre 50 esperti locali e nazionali hanno accolto l'invito del gruppo di giovani giuristi dell'associazione Elsa Udine ad animare un ricco programma di eventi che si susseguiranno dal 3 al 6 maggio. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede della Fondazione Friuli. Si tratta di una scommessa importante, raccolta innanzitutto dall'Università degli Studi di Udine, ha spiegato la docente Marina Brollo, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, incentrata su una tematica calda, trattata in modo multidisciplinare e con spirito critico. Durante le giornate di fake news festival, ha spiegato Gabriele Franco, curatore del festival e presidente di Elsa Udine, i locali dell'Ateneo, le librerie cittadine, gli spazi del Comune e diversi caffè del centro storico ospiteranno incontri per trattare il fenomeno delle bufale nel campo del diritto, dell'ambiente del calcio, ma anche quello medico, economico, giornalistico e politico. Ha concluso Franco. Anche quest'anno in Friuli-Mezza Giulia sventoleranno due bandiere verdi. Lignano e Grado hanno ricevuto anche per il 2018 il riconoscimento che certifica le spiagge in misura di bambini e famiglie. Anche quest'anno arriva il prestigioso riconoscimento della bandiera verde. Le regole restano sempre quelle, acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia, apertori e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il panolino all'attare e nelle vicinanze gelaterie locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Ma quest'anno le spiagge italiane a misura di bambino promosse dai pediatri diventano 136. Negli anni ben 2.380 pediatri sono stati consultati per trovare le spiagge più adatte a soddisfare le esigenze delle famiglie. A rappresentare il Friuli Venezia Giulia sono le località di Grado e Lignano, anche se a livello nazionale è stata scelta almeno una spiaggia per ogni regione. La ricetta dei pediatri per una località di mare ideale per i bambini più piccoli prevede dunque sabbia, meglio di sassi o rocce, un po' di spazio fra le ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che ci si possa immergere in sicurezza. Ha sottolineato a Montesilvano nel corso del IV Convegno Nazionale delle Bandiere Verdi l'ordinario di pediatria della Libra Università Ludes di Malta, Italo Farnetani. I pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate dove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza. E questo anche per la garanzia di pulizia o utile la presenza anche di un bar che possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda oppure anche per scaldare latte o altri pasti per i più piccini. Ed ora prima della pagina sportiva vediamo assieme la vignetta di Fernando Venturini. E anche Venturini è ispirato dall'undicesima sconfitta consecutiva dell'Udinese. Se ne parla naturalmente questa sera anche a Bianconero dalle 21. Per alcune anticipazioni ci colleghiamo con Monica Tosolini. Ciao Alexis, come sapete il tema caldo di queste ore è la questione panchina dell'Udinese perché la società si è presa 24 ore per riflettere, in realtà sta cercando il probabile sostituto di odore. Ormai purtroppo le possibilità che il tecnico abruzzese rimanga sulla panchina dell'Udinese sono davvero minime. I nomi che si fanno sono quelli di Stramaccioni e Mandorlini. Il primo sembra favorito però chiede un biennale quindi si potrebbe virare su Mandorlini. Certo è che al momento non si sa ancora nulla, non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale né in merito al possibile esonero di Oddo né in merito a chi sarà il suo successore. Ne parleremo questa sera, probabilmente ci saranno novità a riguardo oppure bisognerà attendere domani mattina. Grazie a Monica Tosolini. Gli aggiornamenti questa sera in diretta dalle 21 a Bianconero. Ora ci occupiamo dell'ottava edizione di Solidarietà in Rete. Oggi è l'auditorium della scuola media di Tricesimo. E' dettagli nel servizio. E' stata Daniele Pierri, atleta paralimpica dell'Atletica 2000 di Codroipo, la testimonial di Solidarietà, integrazione e cultura socio-solidale la formazione inizia sui banchi di scuola. Appuntamento formativo per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Arena del Royale all'interno dell'ottava edizione di Solidarietà in Rete. Pierri ha raccontato agli studenti, insieme ai giovani dell'Associazione del Melograno, la sua esperienza sportiva, cominciata prima con il ballo e poi tre anni fa con l'Atletica Leggera. Fare sensibilizzazione ai ragazzi penso che sia un tassello molto importante anche per la loro crescita e formazione. addirittura io in realtà sarei più propensa a mettere proprio nelle scuole delle ore di volontariato affinché i ragazzi possano proprio avere un approccio diretto con le realtà che può essere una disabilità o anche una condizione di svantaggio di alcune persone tipo anziani o famiglie meno abbienti proprio per educarli dal punto di vista della personalità. La prima cosa che appunto consiglierò è di proprio lanciarsi nel sociale, in attività del sociale anche nelle stesse classi se ci sono ragazzi. Tante volte si parla degli insegnanti di sostegno, però secondo me anche l'aiuto dei ragazzi, dei compagni di classe nello svolgimento dei compiti, nell'accompagnare la persona, il ragazzo che ha delle condizioni un po' più particolari può aiutarli a crescere insomma ma qui serve sia anche la collaborazione un po' dei genitori che a volte diciamo forse anche a loro un po' di sano volontariato farebbe bene al giorno d'oggi. Siamo in chiusura, vi ricordo il Tg, l'edizione da Pordanoone alle 20.45. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli. Grazie per la visione!